Non chiedi libertà Sono Alberto, faccio il direttore di produzione per Live Nation da circa 10 anni È una produzione rossa, secondo me di effetto Sono 12 camion di materiale Noi siamo in tour attorno ai 55 tecnici più camionisti, band e artisti È un montaggio di circa 7-8 ore In simultanea, cose diverse Milano è la prima che abbiamo fatto come un montaggio vero e proprio Ci siamo entrati la mattina e la sera abbiamo avuto un concerto